Sì, sicuramente sì, ormai da diversi anni che abbiamo nuovi trattamenti che sicuramente hanno migliorato le aspettative di vita dei pazienti, parliamo dei pazienti con metastasi, perché per quanto riguarda pazienti che subiscono intervento chirurgico, che tolgono il neo e speriamo sempre che questi nei sono i fasi iniziali del melanoma, sicuramente una guarigione è quasi sicura. Per la fase metastatica adesso abbiamo dei nuovi trattamenti di farmaci biologici e immunoterapici che mescolati tra di loro veramente determinano un'aspettativa di vita piuttosto ampia e quando parlo piuttosto ampia possiamo andare avanti veramente negli anni, quasi quasi siamo arrivati anche a superare con alcuni trattamenti quelli che sono i cinque anni e un'ottima percentuale di pazienti. Oggi è un convegno che riunisce personalità di tutto il Mediterraneo? Diciamo di sì, sicuramente c'è tutto il panel degli esperti del melanoma italiano, c'è qualche esperto anche del melanoma europeo e speriamo che questo sia il primo di una serie di eventi per allargare naturalmente poi a tutta la fascia costiera del Mediterraneo e perché no a tutta la parte del Nord Africa con i loro esperti perché il problema del melanoma è proprio un problema di natura delle nostre latitudini. I fondi dedicati alla ricerca sono sempre minori, cosa si può fare, un appello magari per il governo? Ma dobbiamo dire che i fondi di ricerca ci possono essere, dobbiamo essere noi a presentare i progetti di ricerca perché la comunità europea è molto attenta a questo, di conseguenza io dico sempre che dobbiamo siamo noi medici che dobbiamo presentare i progetti per arrivare a questi fondi europei. Io vorrei dire anche un'altra cosa che è fondamentale e io dico sempre che la migliore arma per sconfiggere qualsiasi tipo di neplazia è la prevenzione, quindi prevenzione significa mettere in atto tutti quegli step per evitare che appunto si insorgano il melanoma o quantomeno dobbiamo cercare di trovare il melanoma nella fase iniziale che come ho detto poc'anzi un melanoma preso in uno stato iniziale veramente può guarire e di conseguenza non ci ritroveremo nel prossimo futuro con pazienti metastatici. Grazie a tutti.